E' in fin di vita all'ospedale Caffoncello di Treviso, il 25enne residente a Moriago della Battaglia, rimasto ferito dopo l'impatto violentissimo contro un albero in via degli Arditi. Da poco passata l'una di lotte, la pioggia, la strada buia, una curva S, il 25enne era in macchina una Peugeot 208 seduto sul lato posteriore della vettura con altri due amici coetanei, tutti di Moriago della Battaglia. Il terreno sdrucciolevole si ipotizza all'alta velocità le cause della perdita di controllo dell'auto dei tre ragazzi. Prima l'impatto con una pianta da frutto, poi circa 50 metri più avanti, con uno dei tanti alberi che costeggiano la strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del SUEM 118 con ambulanza e automedica, ma le serie condizioni in cui si trovava il 25enne hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, feriti in modo più lieve gli altri due amici seduti davanti. È una strada secondaria, non è illuminata, ma anche perché conduce a poche case sparse qui nei dintorni e soprattutto questa nostra isola naturalistica che si chiama Isola dei Morti, dove la gente va per trascorrere momenti di svago. Spesso vanno a piedi lungo questa strada che è abbastanza stretta e quindi l'invito è sempre quello ad andare piano perché le insidie sono sempre purtroppo dietro l'angolo. Ragazzi conosciuti nel piccolo paese di 3.000 abitanti, amici che probabilmente al rientro da una serata passata insieme stavano accompagnando a casa, il 25enne è rimasto gravemente ferito dove abita con i genitori e i fratelli a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incidente. Una strada a via degli Arditi dove, dicono i residenti, si tene troppo spesso a spingere sull'acceleratore. Especialmente di notte, di notte è una specie di strada qua. Alberi, quelli ai bordi della via che sono stati peantati circa 23 anni fa in occasione delle nascite dei bambini nell'anno in cui sono stati messi a dimora. È il primo grave incidente che si verifica su questa strada e che quindi spero che non ne succedano altri. Mi spiace appunto che un simbolo così bello, un ricordo così bello, poi possa venire accomunato, una disgrazia. Speriamo che non sia tale, io mi auguro questo.